Se ci fosse più lavoro Io ti prenderei volentieri qui con me Ma lo vedi tu stesso Io da solo basto avanzo Mi dispiace Mi dispiaceva sul serio Matteo era un buon uomo e generoso Padre di sei figli Avrebbe dato l'anima perché i giovani del paese Passando davanti alla palestra chiusi gli occhi E spinsi fino a farmi scoppiare il cuore Chiedendo a Dio di lasciare perdere il nostro conto in sospeso Giusto per quei cinque secondi Questa storia narra di una ragazza con il suo garzone Beh, si racconta che questa ragazza era la più bella che fosse mai esistita Si chiamava Buttercup Buttercup Anzi, il razzismo si sgonfia e non ha più ragione di esistere Ma che ti succede? Avanti! Fuori i soldi che ci sono in cassa Tutti ammazzano tutti Quindi che meno importa decidere qualcuno? Ti avrei dato i soldi, sai? Ma non perché mi stai puntando contro un'arma Te li avrei dati perché ne hai bisogno Ma che non viовать O la 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 O la 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 Oh no, e non sono benissimo Ah sì, ma te che fai Mo' quasi quasi l'era Ciao